Siamo a Pescara, alle mie spalle vedete l'ex Enai. C'è un fatto che nella notte tra lunedì e martedì c'è stato un incendio che ha interessato l'interno dell'edificio. Come vedete dalle immagini di Andrea Berardinelli sono andati in fumo vestiti, suppellettili, materassi e quant'altro perché qui purtroppo è terra di nessuno. Nel senso che per molto tempo, ci sono stati vari sgomberi, ma per molto tempo queste strutture, questi edifici sono stati rifugio di disperati e senza tetto. Però c'è una buona notizia e ce la dice il sindaco Carlo Masci che ringrazio e che ho vicino a me, il sindaco di Pescara e cioè il prossimo abbattimento di questi edifici e soprattutto la riqualificazione della zona. Ma andiamo per ordine. Sindaco, questo incendio si può già, le indagini sono in corso, i vigili del fuoco l'hanno spento prontamente, già si può dire se l'ipotesi è dolosa? Non ancora si può dire nulla perché le indagini sono ancora in corso, certo questa situazione di degrado non è più accettabile, sono almeno 20 anni che c'è un totale abbandono di questa area e finalmente metteremo il punto su questa situazione negativa perché entro fino a ottobre o al massimo all'inizio di novembre quest'area sarà oggetto di un intervento di abbattimento totale di questi fabbricati. Già sono in corso le attività per individuare la ditta che provvederà ad effettuare i lavori perché abbiamo approvato il progetto definitivo ed esecutivo negli scorsi giorni in giunta. Questa è una decisione che è stata presa in tempi brevissimi perché oramai queste vicende non sono più sopportabili ed accettabili per una città civile sia perché qui ci sono persone che vivono nel degrado più assoluto, nella sporcizia inaccettabile ma soprattutto queste aree sono anche teatro di azioni criminose, delinquenziali, i vigili urbani vengono quasi ogni notte in questa zona. Voi riqualificherete la zona, avete detto, una zona poi cruciale perché insiste proprio lungo la rivera nord che l'estate è il cuore anche della Movida. Ci sono già delle opzioni, cioè cosa si potrà creare all'interno di questa area? Allora l'opzione è sicuramente non costruirci. Questa è un'area che deve essere restituita alla città nella sua interezza, noi puliremo tutto e ovviamente quest'area sarà adibita nell'immediatezza a parcheggio perché questa zona è una zona che ha bisogno di parcheggi. Poi il ragionamento complessivo sarà fatto anche con il collegamento al Parco Nord perché noi in questa zona vogliamo realizzare un grande parco che è il Parco Nord della città di Pescara collegato con la Pineta, collegato con la Pinetina a mare, con la spiaggia. C'è tutta un'area di rispetto ambientale che vogliamo valorizzare e questo spazio di diverse migliaia di metri dovrà essere sicuramente inserito in questo grande progetto di riqualificazione urbana.